Però vi prego, se passa un medico alla caposala, se qualcuno vi dice qualcosa, non dite che sono stata io, sennò perdo il lavoro. Non si preoccupi. Comunque è mezzo nostro l'ospedale. È suo padre. Chi c'è? Sono Dio. Papà, stai delirando? Ho rinunciato al sapere. Per amore della vostra ignoranza. Perlomeno ci provi, no? Lei è mia moglie. Papà? Quella è vita. In questo momento è vita, no? Ha rinunciato ad avere fiducia per amore della vostra disperazione. Il passo successivo, la fine di quella scena, è la disperazione. Il deserto. Quando la sensazione di un pasto può durare un attimo o un'eternità, anche la storia passata perde la sua dimensione di tempo. Se tu vivi in un istante, non vivi nei tre atti, no? Se Dio viene qua e ci ribalta la domanda, no? Voi volete che io vi salvi, però anche io vorrei essere salvato, no? Voi volete che io vi salvi, però anche io vorrei essere salvato. Io vi salvi, però anche io vorrei essere salvato, no?